Ben tornati in diretta qui su Buongiorno Rossini, la seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata a un ospite in studio. E allora non l'avevamo mai avuto qui nei nostri studi, quindi con molto piacere oggi vi presento il sindaco di Piobbico, Giorgio Mocchi. Benvenuto Giorgio. Buongiorno a voi. Ecco, allora nel nostro entroterra ci sono dei paesi davvero speciali, unici, abbiamo un territorio di un'infinita bellezza, Giorgio, davvero, che spesso neanche la gente che sta nella costa conosce. Piobbico conosciamo, eccetera, però insomma fare un focus, un po' di luce su questo meraviglioso borgo, questa meravigliosa cittadina non fa mai male. Cosa possiamo dire? Io dico sempre questo, molti cittadini anche di Petro e della costa magari conoscono i castelli della Loira e non sono mai stati nei castelli del Monte Feltro. Abbiamo dei luoghi stupendi, e non dico solo Piobbico, ma tantissimi altri luoghi. Quindi è un appello che faccio prima di andare a conoscere i paesi della Loira, che conosciamo i castelli del nostro Monte Feltro, che è stupendo. Quindi l'interno della nostra provincia ha sia caratteristiche ambientali, storiche, culturali incredibili. Quindi è un appello che faccio. Poi naturalmente che sto parlando di Piobbico, essendo sindaco di Piobbico ormai da 15 anni, quindi da 14 anni. Piobbico ha una tradizione antichissima, il castello Brancaleone, come potete scorrere le immagini, il borgo, tutta la parte antica. Quindi abbiamo sia dal punto di vista ambientale tantissimi chilometri, decine e decine di chilometri di sentieri del Monte Nerone, la storia, la cultura. Ricordo solo che la prima moglie Federico da Monte Feltro era Gentile Brancaleone. Quindi Gentile Brancaleone c'è uno stretto legame tra Piobbico e la città lucale. Quindi Piobbico nel suo piccolo racchiude tante piccole nicchie di promozione. Tante che mi dicono, tu cosa promuoveresti di Piobbico? E non so mai cosa dire, perché promuovi il castello Brancaleone. Sì, poi però è uno dei pochi paesi da provincia di Piesa che ha le grotte, tantissime grotte, grotte importanti. Ci abbiamo i sentieri, ci abbiamo l'ambiente, la tradizione, l'enogastronomia, grazie anche all'istituto alberghiero. Vediamo qua la Polenta che si sta affettando. Ecco, la Polenta è una vostra particolarità. Voi dedicate anche un evento proprio alla Polenta? È la sagra del Polentone alla Carbonara. Il Polentone, perché la Polenta è quella un po' più liquida, diciamo, e il Polentone invece è la Polenta che viene tirata molto, poi viene rovesciata su un panno inumidito e quindi si forma tipo un panettone, panettone che poi viene tagliato con il filo, quindi ritagliato a fette, rimesso dentro il caldaio, con il sugo, ed è una caratteristica proprio del, un po' di tutto l'entroterra, però più obbico essendoci stati nel passato tanti Carbonari. Perché la Polenta Carbonara? La Polenta Carbonara una volta era molto più semplice, perché una volta i Carbonari cosa portavano? Portavano un caldaio nella schiena, un sacchetto di Polenta e poi avevano tutto a portata di mano, un po' di lardo e col quale poi si nutrivano nel bosco, perché l'acqua l'avevano, il sale lo portavano dietro, la Polenta è un caldaio e l'acqua era la cosa più semplice e quindi si nutrivano con questo, poi dopo naturalmente è stata rivisitata perché è stato fatto un sugo molto più ricco, quindi insomma ci abbiamo... Diciamo che anche le cose da mangiare, gli alimenti di questo territorio sono speciali, incredibili, incredibili. Quindi Polenta, diciamone alcuni va. Sì, ma noi abbiamo una tradizione lunghissima, tant'è che a Piobbico intorno alla metà del 1500 è vissuto Costanzo Felici da Piobbico, nato a Piobbico, che era un medico naturalista, morto a Pesaro tra l'altro, la moglie era di Rimini, era un medico naturalista che ha scritto tantissimo, perché aveva una ricca corrispondenza con Ulisse Aldrovandi, che era il più grosso scienziato del momento, e quindi dell'Università di Bologna. Con Ulisse Aldrovandi si scriveva dicendo, scrivendo appunto l'utilizzo delle piante spontanee e non, e quindi sappiamo oggi come venivano utilizzate le piante allora. E da tutta questa storia, questa tradizione, abbiamo pensato di istituire a Piobbico l'Accademia Costanzo Felici da Piobbico, che stiamo appunto istituendo dentro il Castello Brancalioni sull'utilizzo delle piante spontanee in cucina, tintura dei tessuti e fitoterapia. Bello, molto bello. Invece, bello, e devo andare all'aggettivo opposto, brutto, perché Piobbico ce lo ricordiamo molto per questo evento dedicato al Festival dei Brutti. Allora, qui stiamo vedendo alcuni scatti dell'edizione ultima, della scorsa edizione. Bene, ma perché esiste questo Festival dedicato ai Brutti? Allora, la tradizione vuole che intorno a metà del 1800 fecero un sondaggio e videro che in città c'erano tante zittelle. Dice, queste zittelle bisogna maritarle. Allora, il Club dei Brutti nasce come, diciamo, una mediazione, un sensale per fare sposare appunto le zittelle. Allora, gli fecero un elenco di persone e videro che in questo elenco di persone non c'erano tante, insomma, degli adoni, c'erano persone abbastanza brutte, gli uomini. Perché c'erano le zittelle. Ah, ma anche le zittelle non erano il massimo. Quindi, quindi, dissero, dobbiamo costituire questo elenco di uomini e dobbiamo eleggerne uno che deve cercare di mediare tra queste posizioni, quindi cercare di maritare le zittelle. fino ad arrivare ai giorni nostri in cui il tema della bruttezza purtroppo è un tema che oggi determina molti disagi. Tanto lo vediamo, no? Siamo di fronte a una società, una cultura del bello, del fisico e quindi chi non è stato baciato da madre natura, come la mettiamo? Quindi è stata creata questa associazione, però ricordo che è un'associazione a due lati, un lato, diciamo, un po' più goliardico e un lato un po' più sociale, sociologico. Ecco, sì. Perché? Perché innanzitutto sono, come dicono, i brutti non discriminano, sono tutti iscritti al Club dei Brutti. Anche le Miss Italia sono iscritte al Club dei Brutti con una valutazione molto bassa. La prossima volta che verrò iscriverò tutti voi al Club dei Brutti. Grazie. Perché recentemente, sabato scorso… Ci mancava. Sì, no, ma con una… c'è la valutazione della bruttezza, insufficiente. Ah, ecco, l'insufficiente viene… Ottimo e un buon brutto. Ma chi valuta la bruttezza? Eh, c'è un comitato, una commissione, c'è il presidente con… Va bene, allora qui… Sabato scorso, recentemente, abbiamo appunto dato la tessera a Wim Wenders, il quale fiero della sua… Eh, sì, perché è stato ospite a Bergola. Ah, quindi anche lui ha la tessera? Alla tessera. Dei brutti? Il giorno dopo, il sabato gli ho dato la macina simile, gli ho dato la tessera brutti, che ho spiegato di cosa si trattava. Il giorno dopo eravamo a Cagli, ho visto che stava aprendo il suo portafoglio per dare un bigliettino a vista, c'era la tessera dei brutti in mezzo, in bella vista, e gli ho detto la tessera dei brutti. Oh, grande, questa cosa non era uscita sui giornali, eh, che anche Wim Wenders ha la tessera dei brutti. La faremo uscire presto. La faremo uscire, quindi con tanto di tessera si ritorna nel suo paese e quindi anche noi l'avremo, giusto? Tutti quanti. Bene, comunque davvero è un evento goliardico, un evento che comunque richiama l'attenzione su Piobbico. Allora, lei è stato sindaco davvero e continua a essere sindaco da tantissimi anni, prossimo anno ci sono, ecco qui vediamo alcune foto, insomma tantissimi anni a sindaco, prossimo anno ci sono le amministrative, lei si ricandida? Assolutamente no, non posso, ma anche qualora potessi, perché ho fatto tre mandati, quindi non posso, ma anche se potessi ormai è giusto lasciare spazio ad altri, anche perché la vita amministrativa è impegnativa, molto, moltissimo, non ci si può nemmeno pensare quanto sia dura questa vita veramente, poi in un piccolo paese è peggio di una grande città, perché in una grande città sono i filtri, mentre in un piccolo paese tutti ti conoscono, tutti ti chiedono e quindi sei tutti i giorni sotto pressione, 24 ore su 24, poi in questi momenti in cui ci sono grandi disagi, disagi lavorativi, il sindaco purtroppo è sempre un riferimento, purtroppo dico perché, è bello ma il sindaco non può più fare molto, una volta il sindaco chiamava un'azienda oppure si prodigava per cercare lavoro, ci prodighiamo anche adesso, però è sempre più difficile perché in un momento di ristrettezze economiche, di crisi come questo è difficilissimo rispondere a tutte le esigenze dei cittadini. Quindi lei sa già chi si potrà candidare al posto suo, insomma il prossimo anno? Si stanno vedendo un po' di figure, c'è già qualcuno che si è proposto, quindi io ho la certezza che non mi potrò candidare e non mi vorrò nemmeno candidare anche qualora potessi, quindi bisogna lasciare spazio ad altri. Noi stiamo cercando però di seminare, purtroppo i tempi burocratici sono molto lunghi e abbiamo atteso per anni dei bandi del GAL, del progetto Aria Interna al quale il Comune di Piobbico assieme ad altri 8 Comuni ha aderito, quindi abbiamo tutti dei finanziamenti che stanno purtroppo giungendo adesso e che segneranno Piobbico per il futuro, quindi stiamo cercando di dare un'impronta che poi le prossime amministrazioni concluderanno il lavoro, però sono i finanziamenti opere importanti che stiamo, diciamo adesso proprio ieri abbiamo presentato un progetto che verrà sicuramente finanziato quindi per sistemare tutta l'area attorno al castello, proprio tutta la zona del parco Acqua e Minerali, quindi stiamo ponendo le basi per un futuro più roseo, si spera. Poi quali sono le altre opere per migliorare il territorio, quel territorio che avete in programma, che avrete? Allora, per il Comune di Piobbico come dicevo stiamo realizzando l'Accademia Costanzo Felice a Piobbico dentro il castello in cui verranno realizzate le cucine, tutte delle rivisitazioni di tutte le sezioni museali con un'area, aule didattiche ed una per il cooking show e poi un'altra cosa molto importante che si insiderà la Dante Alighieri, la scuola Dante Alighieri, la scuola di italiano per stranieri. Poi ripristineremo l'ortale di Costanzo Felici, Costanzo Felici era questo medico naturalista che nel 1500 coltivava piante, vedeva, studiava e quindi aveva realizzato proprio sotto il paese, dove purtroppo adesso ci sono le case e quindi non lo realizzeremo in un altro luogo, l'ortale, cioè tutti dei quadratini dove lui studiava le piante, dove verranno studiate le piante per appassionati, studenti che verranno nei corsi di cucina e sulle piante tintore e piante officinali che verranno a Piobbico. Questo è quello che si intende realizzare. Poi naturalmente stiamo realizzando, dovremo realizzare a breve il secondo campo da calcio, quindi libereremo tutta la zona del parco acqua e minerali, il parco acqua e minerali che dovrebbe diventare proprio una zona, un polmone verde proprio al centro del paese con la realizzazione di una piccola piscina, di un chiosco, di un anfiteatro naturale dove organizzare eventi, di un percorso vita. Quindi stiamo spostando il futuro di Piobbico verso il benessere, verso la salute, tant'è che stiamo istituendo con un'associazione delle ACLI il Borgo Salus, cioè il Borgo della Salute. Questo grazie anche all'Istituto Alberghiero, perché a Piobbico abbiamo un istituto alberghiero molto importante, dico sempre che è la principale azienda di Piobbico, l'Istituto Alberghiero perché arrivano circa 400 studenti da tutta l'entroterra e l'Istituto Alberghiero in cui la provincia ha creduto e sta investendo molti soldi per realizzare nuove cucine, nuove aule e un progetto importante di ampliamento per consentire a tutti i ragazzi di lavorare il miglior modo possibile perché adesso sono molto stretti in questa struttura che è una vecchia struttura degli anni 60. Insomma, tante cose, un piccolo centro, ma davvero avete fatto tanto in questi anni, ancora tanto si farà e quindi bene. Quali saranno i prossimi eventi a Piobbico? Dunque, a Piobbico ci prepariamo, diciamo, ormai per il periodo natalizio. Ad esempio, sabato prossimo, cioè sabato 29, abbiamo una cena solidale per un centro che si chiama l'albero delle storie, qui la Proloco, i ragazzi da Proloco, premieto abbiamo una Proloco bravissima, ragazzi giovanissimi che si prodigano per il proprio paese, veramente spendendo... Fortuna, per fortuna che esistono i Proloco in questi centri e i volontari anche. E tutte le associazioni di Piobbico, la banda, il coro, l'Avis, veramente i piccoli paesi vivono di associazionismo. Poi l'associazionismo è bello perché la mattina c'è la maglietta della banda, al pomeriggio metti quella del coro, sono sempre le stesse persone che si prodigano per tutte le varie associazioni, anche perché un paese di 2000 abitanti, tolti gli anziani, tolti i ragazzini, alla fine a lavorare sono sempre quasi le stesse persone. E in un periodo di Piobbico c'è un grande volontariato, un grande senso di altruismo, tanto è che a Piobbico, ad esempio, c'è una bella base di Africa Mission, dove sono stati raccolti molti fondi, grazie a un amico purtroppo recentemente scomparso, Beppe Rinaldini, che vorrei ricordare, e grazie a lui, grazie agli amici di Piobbico sono stati raccolti i fondi per realizzare ad esempio tre pozzi in Africa, circa 50 mila Euro, stanno mantenendo tutti i giorni, 400 ragazzi mangiano in una scuola grazie al lavoro svolto da questa associazione di Piobbico. Quindi c'è un grande senso di altruismo. Si viene, infatti. La gente del nostro territorio è gente di grande cuore, questo lo dico sempre, ed è per questo che insomma siamo contenti di conoscere tutte le realtà che ci sono qui da noi. Quindi vi preparate al Natale? Al Natale, sì. Il Natale è a corte, noi abbiamo la fortuna di avere questo bellissimo castello, il Castello Brancaleoni, dove vengono realizzate gran parte delle manifestazioni. Volevo ricordare che ad esempio quest'estate sono stati ospitati due gruppi di circa 100 ragazzi provenienti da tutto il mondo, dove hanno fatto degli stage di approfondimento di lirica, quindi i primi hanno studiato lirica e i secondi in musico, quindi strumenti. Veramente delle iniziative bellissime dentro il castello, grazie sempre ad iniziative private supportate naturalmente dall'amministrazione comunale e tutte le associazioni, però hanno dato vita a tutto il paese. A Natale verrà realizzato appunto dentro il castello il Natale a corte. Poi forse una delle cose più belle che viene realizzata Piobico è il presepe vivente il giorno il 26 di dicembre, il giorno di Santo Stefano, nel pomeriggio il presepe vivente che si lungo tutto il bordo fino a dentro il castello, una cosa magari abbiamo visto prima delle immagini veramente commovente, veramente molto 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 bello. Allora io ringrazio davvero tanto il sindaco di Piobico Giorgio Mocchi, conosceremo, andremo a conoscere ancora di più anche attraverso la nostra televisione, il vostro paese, la vostra cittadina, posti bellissimi e quindi noi siamo felici di mostrarli a tutta la regione Marche, a tutti quelli che ancora magari non ci sono mai passati. Grazie, grazie a voi, grazie a Rossini TV. Grazie e buona giornata anche a voi, ci rivediamo domani. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Rossini TV è il nuovo strumento di